L'atmosfera davanti a quella grotta è paradisiaca, gli angeli che cantano i pastori in adorazione e lo sguardo del piccolo pastorello si concentra sulla bellezza fatta persona. Ma certo, non può che essere Dio, questo piccolo bambino, se la sua mamma è così bella. La bellezza di quella mamma, il suo sguardo, la sua tenerezza, l'amore che emana da ogni poro. Sì, Maria è lì e il piccolo pastore non resiste, lascia gli altri pastori e entra in quella grotta. Entra in quella scena del presedio e va da Maria e la chiama mamma, sì, perché lui la sente come mamma sua. E le dice, mamma, io ti do il mio cuore perché le tue mani hanno portato Dio. Mamma, prega per me. Maria, dolce Maria. Amore. 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 Maria, dolce Maria, nelle tue mani hai portato Dio. Padre purissima, prega per me. Donna bellissima, prega per me. Il figlio tuo. Il figlio tuo. Il figlio tuo. Grazie. 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 Grazie.